Buonasera dalla sede di Palidoro dell'ospedale Bambino Gesù, dove questo pomeriggio è arrivato alle 15.30 un po' a sorpresa Papa Francesco. In anticipo rispetto al giorno della Befana, ma ospite gratisissimo per i bambini ricoverati qui nell'ospedale. Bambini e genitori che hanno potuto godere della presenza del pontefice che è rimasto nella struttura per oltre due ore, visitando ogni reparto e salutando ogni bambino, ogni piccolo paziente. Qui con me c'è la presidente dell'ospedale Bambino Gesù, Mariella Enoch, che ha accompagnato il Papa in questo suo giro, in questa sua visita all'ospedale, a sorpresa, rigorosamente a sorpresa. Sì, rigorosamente a sorpresa, è vero. Mi ha chiesto proprio il massimo silenzio, la massima riservatezza, perché desiderava che fosse una visita fatta solo all'ospedale, ai bambini, alle famiglie, a tutti coloro che nell'ospedale lavorano. Quindi era una visita dedicata solo ed esclusivamente all'interno dell'ospedale. Quindi abbiamo mantenuto il più possibile questa riservatezza. E la visita? E la visita è stata molto bella, molto intensa, come il Papa sa fare. Quindi lui non dice molte parole, ma parla tantissimo col cuore, parla con gli occhi, parla con la sua persona, parla col suo modo di accarezzare i bambini e di dare una carezza consolatoria alle famiglie e di dire a tutto il personale non siete voi che dovete ringraziare me, ma sono io che devo ringraziare voi. Il Papa ha potuto ascoltare le storie di tantissimi bambini, di tanti genitori che purtroppo passano qui anche giorni, mesi, addirittura anni nel tentativo appunto di guarire i loro bambini da patologie tra le più diverse. Ricordiamolo che il bambino Gesù è un ospedale pediatrico d'eccellenza non solo in Italia ma anche in Europa e che questa, la sede di Palidoro, era stato un dono di Paolo VI, di un altro pontefice. In pochi anni è diventato anche questo un luogo leader nella cura di alcune patologie. Il Papa ha toccato con mano la sofferenza dei più piccoli? Sì, qui ci sono bambini con grave disabilità che però sono ugualmente curati. Se non guariti, curati, seguiti. Per cui anche i genitori sanno di non essere soli perché anche in questi casi c'è qualcuno che si occupa dei loro figli. I bambini tornano a casa, vengono seguiti domicilialmente e tornano qua. Oggi c'erano anche molti casi di bambini con infezioni respiratorie data la stagione, naturalmente però gravi. Ma il Papa ha potuto sì, vedere con i suoi occhi e devo dire che si vedeva da come lui guardava quanto percepiva il dolore di questi ragazzi, molti purtroppo con grevi handicap, ma che sono ugualmente curati e seguiti. Lei che l'ha seguito in tutta questa visita, che cosa le è rimasto dell'incontro tra il Papa e i bambini? Io ho fatto in modo che fossero i medici, gli infermieri a essergli vicino mentre illustravano i casi. Però ogni tanto i suoi occhi incrociavano i miei o i miei incrociavano i suoi. E in quel momento ci siamo scambiati di quale sofferenza eravamo testimoni.